Signori miei, guardate un po' dove siamo tornati con le vostre 4 mummie preferite Guardate, guardateli, guardateli, guardateli Identici, sono bellissimi Ok, siamo tornati su Supermarket Simulator con 70.000 dollari 70.000 dollari da spendere che andano via come il pane Ma prima vorrei farvi una domanda Voi preferite che vi porti questi video saltuali di Supermarket Simulator Dove ho accumulato un piccolo tesoretto da spendere Vi faccio vedere come lo spenderò Oppure preferite che continui a portarvi magari video di Supermarket Simulator Come sempre, cioè semplicemente vi faccio vedere le classiche giornate Dove la gente arriva, prende di tutto Noi facciamo i riordini per il magazzino, finiamo le scorte, eccetera, eccetera Insomma, ditemi voi, perché credo che questi video comunque siano un attimino un po' diversi dal solito Perché dobbiamo solo spendere, spendere e riaccumulare Ma comunque sia Praticamente con questi 70.000 dollari Noi riusciamo a fare una cosa, due Volendo possiamo aumentare la sezione 3 Fino alla sezione 3 E poi, e poi, e poi Prendere una nuova licenza, ok? Però prendendo una nuova licenza Mi sto uccidendo Cioè, raga, non ho più spazio di nulla in magazzino Ma continuo a mettere roba Perché io mi voglio incasinare la vita Io non voglio le mod, perché le mod potrebbero rendermela più semplice Io me la voglio incasinare Io voglio le mod più strane possibili I cassieri li voglio ancora più lenti Almeno posso sclerarci sopra È più divertente Comunque, prendiamo la sezione 13 E ci portano 40.000 dollari Però guardate che bello Ha un altro muro battuto Ok? E poi, prendiamo la licenza da 22.000 dollari Rimaniamo con 8.000 dollari Proprio cagatissimi, raga Proprio pochissimi Comunque, devi uscire anche per mobile Però ad agosto Uscirà la versione mobile Vi domando Voi sareste interessati a vedere la versione mobile? Perché nel caso ve la porto Voglio vedere anche io un attimino Sono cambiamenti strani Comunque Facciamo un doppione di tutto Ci servirebbe In teoria Uno scaffale nuovo No, in realtà ci serve davvero Uno scaffale nuovo Perché mi ricordavo che questo era vuoto Ma in realtà ci avevo messo la birra Ci serve uno scaffale nuovo Qua, in realtà Servirebbe un po' di riordine Un po' di riordine Infatti Lì mi posiziono così al momento Forse, forse, forse Mi libero da quella parte Cioè, liberai me lo libero Ecco, però Madonna, ero affezionato Questa zona qua Però Non in po' No, dai Per un soffio Per un soffio di sedere Ok, ne devo comprare un altro In realtà Ci sono Fammi vedere una cosa al volo Allora, abbiamo preso Sono Uno, due, tre, quattro Prodotti nuovi Forse uno scaffale Forse serve solo uno scaffale Sapete Forse uno basta Vediamo un attimino Che è crollato tutto dal cielo Grazie Gesù per questa offerta Che gli ha mandati Gesù Vediamo un attimino Vabbè, qua non posso mettere Vabbè, fa nulla Voglio solo vedere un attimino com'è Solo questo Madonna, devo prendere un'altra cosa per il magazzino Sapete che forse basta? Sono quattro prodotti Quattro slot No Perché Anzi, sì, sì, sì Dovrebbe bastare Dovrebbe bastare Questo li mettiamo sotto Ok No, dovrebbe bastare in realtà Stavo già Facendo mali calcoli Ecco Però questo in realtà È un po' come What is it? A me ce l'aveva un prodotto simile Cazzo Come questo No, vabbè Basta in realtà Basta Se è lo stesso numero Basta Oddio Soupless Fresh hair Che prima che lo guarda Tipo lo dottimo Soupless Fresh Wesh Il magazzino comunque voglio riorganizzarmelo Perché ormai c'ho Talmente tanta roba Tipo ad esempio C'ho un botto di Roba tipo zuccheri Zuccheri Basta Zucchero bruno Eccetera eccetera Zucchero Di canna Di tutti i tipi Quindi dovrei riorganizzare il magazzino Anche se che ero mai in ordine No, vabbè Questa non mi serve adesso Anche Seguendo un certo ordine Ecco Cioè Ma in realtà lo vedi Fatto Cioè io ho pagato 20.000 dollari Una licenza da 20.000 dollari Mi ha dato solo 4 prodotti Solitamente me ne dava 6 Tipo Una roba così No però mi fa cagata Visto così è orribile Non lo so C'è qualcosa che Gli manca Gli manca qualcosa Allora No aspetta Decisamente faccio così Io comunque sono molto Mi sto tenendo Molto sintonizzato Sugli aggiornamenti di sto gioco Che non stanno arrivando Praticamente è dal 14 marzo Che non esce un aggiornamento sul gioco Io ho paura che l'abbiano abbandonato Siamo scappati con i soldi Ma spero Di no Perché sarebbero veramente degli idioti Visto che è un gioco comunque sia Super indica Ha avuto successo nella sua semplicità E spero Vivamente col cuore Che Scusa Perché non va Spero vivamente con il cuore Che non siano Scappati con i soldi Perché si lo fanno Raga lo fanno Le volte i sviluppatori C'hanno sto Sto bel vizietto Ecco Ma spero E credo Che non sia questo il caso Cioè voglio dire Una piccola Gallina delle uova d'oro Porca Miseria ladra Perché non me lo fa mettere Guarda Sti freezer Sto davanti diventi Guarda Se io Metto un altro prodotto Da freezer È la fine Cioè Praticamente i freezer Stanno arrivando in strada Ok Devo dire che così È molto più Bello Guardate Però mi urta Il sistema nervoso Questo Sto angolo vuoto Ma dai Ma almeno Dammi l'opportunità Di appenderci un quadro Ma che ne so Qualcosa Ma Un po' Così è orribile Potrei togliere Magari un paio di questi Tipo tre di questi No E posizionarli tre qua Però Mi serve La via crucis libera No Però ci starebbe Altri Fanno provare una cosa Ma vi dirò Non è male Non è male Anche perché Qua il passaggio Minchia però Fateci caso Il negozio è gigantesco Però potrei mettere Anche qualche altro scaffale Con i doppioni Che sono più richiesti Che vanno più a ruba Cioè nel senso Tipo qua Vanno velocemente a rubo Perché sono semplicemente 12 unità Sono in totale Mi sono sbagliato Sono 3,6,6,9,12 unità Qua idem Cioè questi pacchi Vanno in fretta Perché Li prendono a 3 a 3 Cioè li prendono a 3 a 3 O a 4 a 4 Quindi Vanno via velocemente Dobbiamo mettere i prezzacci Per sta roba Le mettiamo a 9,44 Questi Questi Le mettiamo a 9,72 No 72 Voglio Che sclerino male 9 E 30 E questi 12 E 62 Ah Nuove prodottini Però ci stiamo dimenticato Dimenticando Di un'altra cosa Devo mettere Il nuovo Scaffale E' tutto Basta Cioè raga Questo è l'ultimo Scaffale Che io posso mettere Guardate E' l'ultimo L'ultimo Basta proprio Non ce ne è altri Fine Della fine Devo aspettare Il nuovo aggiornamento Non posso fare altro Non posso Assolutamente Fare altro Un po' più allineare Lo voglio in ordine Ecco Guardate la follia Ti giuro Che orrore Vabbè Quanto ci fanno loro in mezzo Allora Devo ordinare Un paio di Almeno Non so quanti slot Dedicati Aspettate un secondo Facciamo un riordine Degli ultimi prodotti Che abbiamo preso E devo vedere Quanto occupano alcuni Perché C'ho la sensazione Che questi ad esempio Occupino Molto poco Quindi se Ne prendiamo Le dedichiamo uno spazio Va bene Anche questi Questi forse un po' di più Occupano Questi decisamente Di più Oh Madonna mia Facciamo tre Tre Facciamo una roba del genere Ok 82 In realtà pensavo Di spendere Molto di più Sul fatto Del riordine Dei prodotti Invece no Invece no Ok Abbiamo aperto Tanto Guardate Bellezze Guardate Sentite il profumo Lo senti Sentilo con quelle narici Guarda come Stai respirando tutta l'aria Che bellissimo Oddio Guardate 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 Ma chi ve li Chi ve li dà L'inside Così eh Stepnit Ve le fa vedere Queste cose No guardate Guardate che bellezza Guardate Guardate Una lezione Di biologia Guardate Il corpo umano È bellissimo Allora Questo sta già muovendo Vuol dire Qualcuno è entrato Preso già I nostri clienti Infidati Guardali C'è Sceldo un cooper Pelato C'è la No Non devo scherzare Una bella topolina C'è il nostro Maggiordomo C'è Quest'altro Oh signori Prego Secondo Comunque Mano a mano Che Facciamo diventare Sempre più grande Il nostro negozio Arriva ancora Più gente Oddio Signora Guarda Guarda Qua era pieno Tre polli Sono svaniti Così Nel nulla Comunque qualcuno Ha suonato Ah già Mi sono dimenticato Di dirvi sta cosa Mentre stavo giocando Per salire con i soldi Ho licenziato un cassiere Dove Ma perché l'hai licenziato Per il semplice fatto Che volevo mettermi Io Alla cassa E fare Una cosa un po' più In fretta Ecco Perché erano troppo lenti Volevo essere un po' più Veloce la cosa Però adesso Lo posso riassumere Perché Assolutamente non ne ho voglia Quindi prego Cento dollari Vanno in fumo Ma li guadagneranno Due secondi Praticamente E questo è il nostro negozio Ragazzi Io però sono curiosissimo Veramente curioso Di quando metteranno I ladri E roba del genere Cioè lì Come ci sarà da ridere Da ridere assai Perché Sto pensando che qua le luci Dovremmo mettere delle luci Perché abbiamo allargato Qui una luce qua Una luce lì O forse mi riorganizzo Queste Ok non è super Ma in realtà Guarda è bella No Non tanto precisa Ma Poteva andare peggio Chi se ne frega Dalla precisione Delle luci però Vedi qua sono troppe luci Cioè qua ce ne è veramente troppe C'è una concentrazione di luci Comprate Mie belle scimmie Comprate Comprate tutto Siamo già 8000 dollari Il che non è male Beh i prodotti nuovi Ne hanno preso solo uno No anche qua Che cazzo Che prodotto è per questo Ah per pulire Tutto in uno Ultra performante Ultra preciso Ultra pulito 0.15 free Da cosa Alcol Quello pure free Che ce lo stanno regalando Comunque la passeggiatina A Harlem Sarebbe da fare Se mettessero qualcosa Di un po' più Incisivo In questo quartiere Sento solamente Uccellini che cantano Fine Non sento altro Non sento Sparatori Dopotutto siamo a Harlem Dai Una sparatoria Ogni tanto ci sta Questa luce Che cazzo me ne faccio La posso rivendere Però non voglio rivendere Ecco Sta facendo buia Vediamo un attimino Come la si Dove Oddio Dolores Devi accendere Alla luce Ma capisci E lì Ti basterebbe allungare Quella zampina Allunga la zampina E premi l'interruttore Stupida scimmia Ti pago anche per quello Questi lavorerebbero Tranquillamente al buio Guarda che roba Guarda Questi lavorerebbero Tranquillamente così Che vabbè Non è ancora buio Buio pesto Però Ma neanche più di tanto È proprio Guarda quanta gente Fare un concerto Bello Guarda sta qua Guarda sta qua Attenzione agli attacchi epiletici Oh madonna mia Signore Clark Kent era quello lì Guarda la fila La fila Di buzzurri Guarda Tutti uguali Guarda Questi due sono Dei cloni Vestiti in modo Differente Ma anche lui È un clone Solo che è un po' più basso Vabbè Questa è dalla stessa altezza Forse un po' di meno Guarda Guarda Tutti i cloni Signora Come ha fatto a incastrarsi qua dietro Signora Allora Noi Siccome Tutto il lavoro Le casse sono piene Guarda che roba Guarda che roba Si lamentano le scigne Mi sa che sta roba la vendo Ma sì Dai Chi se ne frega La vendo Non mi serve Ci guadagno ben 20 dollari Considerato Che le ho pagate 40 Mi sembra giusto No Cioè guarda questo qua Crisi esistenziale Davanti al muro Dovrei aiutarle comunque Perché Dato che Comunque sia Sì ok Refill lo fanno loro Però magari Ma sapete cosa Potrei comprare Anche un'altra cassa In realtà Perché ormai Stanno diventando Talmente tanti Che un'altra cassa Con una piccola spesa Di 400 dollari Forse sarebbe il caso Di farlo Non credete Ho metto Anch'io la cassa Mi servo pure io Dio Forse potrebbe Però sono le 9 Quindi non posso più Mettere altre casse Devo aiutare Comunque sia Preferisco aiutarli Qua il refill ci vorrà Una vita Una vita Perché già sono lenti Così a fare refill È qualcosa di Fenomenale Qua vedo che mancano Parecchie robe Comunque il prossimo video Molto probabilmente Se non vi piacciono Queste semplici giornate Che vi posso portare Il prossimo video Probabilmente Sarà il video Dei Allora O degli 80k O dei 100k Non lo so Il problema è che Vi ci vuole tempo Ovviamente ad accumulare Tutti quei bei soldoni Quindi io l'ho guardata Assieme a me La strada Verso i 100k La chiameremo Perché Il prossimo sviluppo Mi chiede 52.000 dollari Che vabbè Sono anche Fattibili Più o meno Sono fattibili Ciò che mi preoccupa Di più sono le licenze Perché io le voglio Le licenze Io voglio vendere Sti libri No Scusa Qua c'è scritto Donnine libro Donnine libro Lo compro subito Io arrivo A 22.000 dollari Io lo compro Il donnine libro Io la voglio La licenza prodotto Di donnine libro Madre e figlio Campo elettromagnetico Non voglio condividere Ma che cazzo Di libri sono Cioè ma poi scusate È un supermarket Come la stiamo finendo A vendere libri È questo che mi sto chiedendo Cioè fra poco Ci mettiamo anche A vendere armi Già che ci siamo Dopotutto siamo in America Quindi Un R15 Ci starebbe a venderlo Secondo me Un AK47 Così Se possiamo fatturare Ovviamente Dobbiamo farlo Regà Non Cioè Questo alla fine È un business Non possiamo fare Nient'altro che vendere Ecco Se il cliente Se c'è domanda Noi ovviamente Dobbiamo rispondere A quella domanda Aspetta che forse C'è È rimasto L'ultimo L'ultima signora Esala il respiro Grazie signora Alla prossima 94 clienti soddisfatti Solo uno Ha trovato il prodotto Troppo costoso E sono sicuro Che guardate Allo yogurt Perché c'è sempre La signora pidocchiosa Che non le piace Il prezzo dello yogurt Cioè È praticamente dato gratis Ma continua a rompere le palle Ma va bene signora Non si preoccupi Allora C'è la farina E l'olio Che sono calati di prezzo Allora Adesso ci sta da fare Un refill Assurdo Oltre che va bene Ovviamente abbiamo Le nostre piccole fatture Da pagare Che come sempre Guardate Stanno aumentando Ci siamo arrivati A 4,52 A 2,50 totali Di fatture Ma a noi Non ce ne frega niente Noi siamo The business man Non stiamo Guardando Allora Allora Adesso faccio Un refill Al volo Quindi probabilmente Questa parte La taglio Perché l'avete vista In 20 video precedenti Non so se vi rompe il cazzo Però ditemelo Scrivetemelo nei commenti A me fa piacere Leggere Cioè li leggo tutti I vostri commenti Ecco Non è che Solo perché magari Non vi rispondo Non li leggo Li leggo tutti Quindi Se mi scrivete in tanti Che preferite Che io Vi faccia vedere Anche queste cose Quando compro E rimetto a posto Nel magazzino Beh scrivetemi Il commentino Io lo leggo E via E vi accontento Quindi Però per stavolta Lo taglio Ok Perciò scrivetemi Il commentino Ok allora Le mummie Piccolo aggiornamento Le mummie sono Fermate dal fare Il refill Quindi praticamente È finito Sono finito E posso continuare A comprare Le robe In realtà Non mi serve Neanche più di tanto Perché Prima di fare Questo video Avevo già fatto Un'organizzazione Del magazzino Avevo Avevo comprato tutto No Quindi non mi serve Altro praticamente Cioè Ha tenuto botta Diciamo Tutto quello Che ho comprato Tranne alcune cose Di cui ne ho veramente Poco in quantità Tipo ad esempio La candeggina L'ho comprata L'ho rimessa E guardate un po' Cioè Ce ne manca già un po' Ecco Però a parte ciò Ha retto un po' Tutto Sì Ok apriamo Sto negozio Via Lavorate piccole scimmie Ho fatto un mini ordine Di cosine Tanto costa poco La birra Quindi ne ho comprato Raga 10.000 dollari E ci spariamo La nuova licenza Otti Io non posso sparare La nuova licenza Che dico Anch'io Non ho lo spazio Non ho lo spazio Oppure Devo riorganizzare questi Ma non credo Cambi molto In realtà Per come sono Cioè ormai guardate È preciso Cioè è proprio preciso Con non ho più lo spazio Di nulla Non ce l'ho Ma anche questo Non lo giro Verso qua Non credo Cambi qualcosa Non credo Di poter risparmiare Ancora più spazio Eccoci Oddio 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 Cioè dai Non potete dirmi Che qua Qua non si è organizzato bene Ecco Non potete dirmi Oddio Perché c'è l'olio qua Chi l'ha lasciato l'olio qua Oddio mio Forse Forse Dico forse Possiamo farlo Bisogna vedere un attimino Ma non Quanto occupa Perché poi in realtà Se io li Li giro C'ho più spazio No? Aspetta un attimo Che forse 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 Sì In realtà Sì C'ho più spazio Cioè Perlomeno Mi dà Questa impressione Vabbè Anche se Non è perfettamente Allineato Questi 10 Però sì C'ho più spazio Oh mio dio Oh mio dio Vabbè Lui passa così In mezzo E poi come ne esci Da lì Guardalo Vado Pari il labirinto Vado di Shining Bellissimo Oddio Allora Quindi le pareti Li lascio le pareti Ma questi in mezzo Se si organizzano Un attimino È perfetto Guarda C'è c'ho un'altra fila Qua che potrei fare Oh mio dio Vedete Tutte le Le partite Fate a Tetris E altre robe Vedi Vedi Danno il loro frutto Sì 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 Va bene Ho anche risparmiato No vabbè Di lì non c'è Altro spazio Che tenga Di qua non posso Ecco vedi qua Di qua non ce lo posso mettere Ma non importa C'è Mi sono creato Volendo Una Vai gauli Ok così va bene Guardate che è bello Così C'è più spazio Qua per camminare Oh shit Oh shit Oh shit Devo fare lo spazio Aspetta Mi sono dimenticata Scusami Oh mio dio Vabbè ormai passa in mezzo Aspetta Qua passa Ok Devo fare il passaggio Mi sono dimenticato Che sta piccola Sto piccolo dettaglio Ok Devo lasciare lo spazio Ho capito Unuco Ma anche tu no? Oh madonna Ecco il problema In un piano perfetto Li ho fatti Troppo appiccicati Aspetta Dio non ci passo nemmeno io Mi sta facendo l'ansia Aspetta Allora Aspetta Allora qua Ok Di quanto è lo spazio Acceso Non funziona Oddio Aspetta Aspetta Di qua non riesco a passare No 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 Raga Mi sa che non va bene Sapete Va bene Cioè Così sì No Però di qua Poi un bordello Perché devo passare Di così Cristo Guarda qua Cioè Devo fare delle Aspetta Madonna In tutto questo Però stiamo affatturando Guarda che Quanto sono contenti I miei clienti Che non sono un cazzo Di quello che succede dietro Nel backstage Aspettate Fatemi pensare Forse era meglio Lasciare la gomma Qua in mezzo Ci passano Ok Però Il problema È il resto Guarda Passa nello spiffero qua Diventa ancora più magro Oddio è sparito Eccolo Eccolo Non sa cosa vuole Guardalo Madonna Scusa Zio No Vedi Però alla fine passa Oddio D'Ales Questa merda di luce Allora 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 Fatemi pensare Non c'è abbastanza spazio Prima come l'ho organizzato bene Era tutto ben separato Adesso Non va bene Guardalo Stupida scimmia Ma vai da questa parte No Ma l'ammazzo Vai Ok Si è creata una sorta di via crucis Guardate Questo è il rivolto così di nuovo E infatti non ho più lo spazio Sono finiti Oh 20.000 dollari Però da questi 20.000 dollari Dobbiamo levarci altri soldi E vabbè Ste code Poi le controllo Aspettate Nel frattempo Sistemo le fatture E via C'è Pensavo di risparmiare spazio Invece sono un coglione Ecco E questa è la verità Questa è la nuda e cruda verità Oddio Mi sta venendo all'ansia Come cazzo l'ho fatto Orribile così Bell'accesso di merda Che c'erano sti scemi Decisamente Meglio Al massimo Utilizzo bene lo spazio Fino al millimetro E' una roba odiosa Che qua Si crea Un'ospazione enorme Che non posso In nessun modo Coprire Ma che non faccia La roba così Non lo fa cagare così Ok Allora Ho riorganizzato di nuovo Esattamente Come era prima Perché non ha funzionato Non ha funzionato Come mi aspettavo Avrebbe funzionato Ma qua Si è creato Uno spazio Molto più grosso Di quanto pensassi Però si riesce a passare Perfettamente in mezzo Però che odio Regà Io voglio comprare Altre Io voglio vedere I libri Che cazzo sono Cioè voglio vedere Le ste cose Sono curiosissimo Uno stracurioso Ok Adesso devo fare Di nuovo Il refill Della roba Questi qua Stanno ancora Facendo Il pieno Quindi non so Restamente quanto gli manca Ed è un po' rischioso Perché non vuole Ecco Quello è il problema Ma di qua Ogni volta devo saltare Per dire Allora Ho fatto il refill Ma siamo scesi A 14.000 dollari Non importa Tanto risaliremo Allora C'è un Un piccolo problemino Se non riesco Ad avere lo spazio Qui in magazzino Per quanto riguarda La nuova licenza Non è in realtà Un problema Perché volendo Io posso mettere Gli scatoloni qua Come faceva all'inizio Che non esistava Neanche il magazzino Quindi chi se ne frega Volendo Non c'è problema Ecco Non c'è problema Però ovviamente Metto lo scaffale qua Dei libri Oddio dai Voglio Voglio arrivare A fare il cash E prendere la licenza Tanto ho già pagato Le fatture Giusto Non mi ricordo Sì le ho pagate Le ho pagate Sì Prendo la licenza Ci abbiamo Tre tipi di libri No Tre quattro Cinque tipi di libri No sei No cinque No sei Sei libri diversi Quindi sì Batata Sei libri diversi Perciò dovremmo Prendere decisamente Due scaffali Sì Probabilmente sì Forse uno mi rimane Mezzo vuoto Ma vediamo Ne prenderemo Prima uno E poi gli altri Ok allora Nove Siamo sui Ventimila dollari Forse arriviamo Sui venticinque Ventisei Non lo so Anestamente Dipende dal Da quanta roba Hanno preso Sti zuzzurelloni Ma forse il libro I libro I libri La licenza dei libri La prenderemo A breve Ok Nuova giornata ragazzi Ma Non abbiamo ancora Aggiunto la cifra Maledizione Ok signori Io direi di prendere La licenza Dei libri Cristo Siamo a Quattromila dollari Andiamo un attimino Oh madonna mia Ok Ok Ordiniamo Che bei libri Però ci serve Lo scaffale Decisamente Ci serve Lo scaffale Ordiniamone Uno Evidentivamente Uno Oh madonna Ragazzi Ci stiamo Involvendo Lo mettiamo qua Però Non so perché Mi piace più Sta zona Per i libri Allora Vediamo Un attimino Questo libro Qui Chissà quanto Quanto li possiamo Far pagare Sono molto curioso La licenza Dei libri Raga Ne possiamo mettere Otto Ok Quindi forse Due scaffali Si Mi sa che Due scaffali Ci stanno Raga Mi sa che Due scaffali Sono il minimo Questo è l'ultimo Che possiamo mettere Così Si Compriamo un altro Scaffale Magari nell'altro Scaffale Posso mettere Dell'altro Oltre i libri Non ho idea Di cosa potrei mettere Ma vabbè Si Anche questi Sono praticamente Due Però vabbè Non importa Non importa Vediamo un attimino Ordiniamo Lo scaffale Lo mettiamo Subito a fianco Mettiamo a fianco Dai ci sta Anche bene Lontano Un pochettino Dai cibi Ok Ok vediamo i prezzi Perché sono molto curioso Fai vedere Non mi ricordo Manco quanto 11 dollari Mettiamo a 11 54 3 No 4 La cultura si paga Poi questo 6 dollari Ma possiamo fare 6 e 20 C'è sempre il sovrapprezzo Di 20 centesimi Non esagero mai Quindi 8 e 20 Però c'è sempre il margine di guadagno 10 e 25 Così 7 dollari ci guadagniamo E questo 8 e 30 Questo è 10 e 20 Ok Però il problema è che devo continuare a fare il refill di qua Magico perché me ne sono completamente dimenticato E non so se mi basteranno i soldi Ok signori Siamo rimasti ufficialmente Costate 142 dollari Puzzolenti Pidocchiosi Ma è stato fatto il refill a tutto Ora signori miei Io probabilmente vi saluto qui con questa parte Mentre abbiamo il negozio aperto Praticamente Arriveranno clienti a oltranza Se volete vedere come sempre altre parti di Supermarket Simulator Non dovete fare altro che mettere like Commentare Fatemi sapere la vostra opinione I vostri consigli È tutto ben accetto E noi ci vediamo con la prossima parte Non so quando arriverà Non so cosa tratterà Ma ci vedremo con la prossima parte di Supermarket Simulator Ciao a tutti Ciao a tutti